Nel 1946 io ero studente universitario a Milano, alla Statale, ero al secondo anno, a giurisprudenza. Lì avevamo un gruppo che continuava a discutere del problema Bolzanino, perché tutte le sere ci trovavamo a bere un bicchierino o di Cazzosa o un bicchiere di vino e si discuteva sul futuro della provincia autonoma di Bolzano. Lì non si discuteva ancora della provincia autonoma di Trento, perché il problema dell'associazione Bolzano-Trento venne portato avanti, se possiamo usare un termine linguisticamente brutto ma comprensibile, ad Alcide De Gasperi, che è stato il più grande patriota trenteno che uno possa immaginare, perché si è battuto come un leone per vedere abbinata la provincia Bolzano alla provincia di Trento.